Ancora ben trovati dalla redazione di Chirenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria in galleria tra Firenze Scandici e Firenze Sud in direzione di Roma. Sempre in A1, code a tratti ancora una volta verso Roma tra Monte San Savino e Valdichiano e code a tratti verso nord tra Calenzano e Vio 1 variante. E ancora coda in uscita a Valdichiana per chi proviene da Firenze. Fipilì 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Verso Livorno rallentamenti per mezzi in lento movimento tra Montelupo ed Empoli Est. Verso il capoluogo troveremo in oltre code a tratti tra Firenze Scandici e Firenze Veduta all'Indiano. Siamo al TPL per domani 18 luglio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore. Per i busti autolini a Toscana il servizio non sarà garantito dalle 18 alle 22 per la tramvia di Firenze possibili di servizi dalle 9 e 30 alle 13 e 30. Avere se in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.